bentornati o miei scomunicati nel sacro ordine di cbg games per una comunicazione velocissima allora facciamo il programma del fine settimana delle live e parleremo anche di come voglio procedere progredire o procedere per prossima settimana con la live di afcarena che voglio fare allora ragazzi quindi prima cosa prossima settimana voglio fare una live di afcarena a tema salmon quindi se siete interessati a farmi fare le vostre salmon scrivetemelo nei commenti io sorteggerò un po di persone e faremo come abbiamo fatto nell'ultima live salmon allora la data che sceglieremo allora sarà mercoledì 13 mercoledì 13 faremo la live di afcarena su con le salmon mi scrivete nei commenti chi è che ha delle salmon da fare chiaramente ragazzi per lo meno un 20k gemme possibilmente perché se no non non è abbastanza insomma per tutta la live però possiamo fare anche con meno ci metteremo d'accordo voi me lo scrivete nei commenti e io vi farò sapere come fare per mandarmi poi dati eccetera perché voglio invitarvi anche in live le faremo insieme queste salmon poi stasera c'è la live a tema rocket league sempre sul mio canale twitch dalle 21 se riesco forse 21 e 15 21 e 30 vedremo comunque dalle 9 in poi attivate la campanellina per venire a farvi un giro e c'è da divertirsi insomma bestemmio smoccolo tilto e soprattutto gioco anche con voi quindi se volete giocare a rocket league se non lo conoscete andate a vedere insomma è abbastanza carino passate perché ne vale veramente la pena poi altra cosa domani perché oggi non ce la faccio domani fare farò manderò una mail alla lilith e gli scriverò insomma che il viaggio delle meraviglie è stato veramente un gran successo e poi insomma domani farò uscire il video e dove parlo di questa mail e se vi va possiamo girare tutti insieme questa mail mandarla ancora anche noi c'è tutti proprio tutto tutta la community che abbiamo creato per dare supporto a questa cosa fargli capire che la direzione è quella giusta che è questo quello che vogliamo e questo quello che ci piace questi sono i viaggi meraviglie che vogliamo poi ultima cosa da dirvi velocissima sto per fare il video su quelle che saranno le uscite le novità della patch 1.38 quelle che ci sono mancate tipo cosa è successo nella caserma gli emblemi del labirinto come funzionano eccetera quindi a breve uscirà anche quel video sarà un video molto breve oggi saranno video molto molto brevi e poi arriveranno allora prossimamente ci saranno un video sulle team comp più gettonate in camp in campagna a livelli alti quindi in endgame e c'è veramente tanta roba di cui discutere ragazzi poi arriverà un video dove parleremo di vrizz e soren sono uscite due team comp veramente mostruose trovate dal nostro bese che sono veramente tanta tanta roba e c'è da analizzarle e poi se avete delle idee qualche argomento volevo riprendere anche le top five dei dps support eccetera se siete d'accordo perché chiaramente sono cambiate diverse cose e ci sono dei dps veramente gustosi da prendere in considerazione quindi nei commenti scrivetemi anche quali video vorreste vedere prossimamente e fatemi sapere anche se gli argomenti che vi ho appena proposto vi interessano io vi ringrazio e ci vediamo fra pochissimo con il video sulle novità della patch 1.38 poi chiaramente lunedì uscirà anche il video dell'evento che porta la patch 1.38 vi ricordo ragazzi che la patch 1.38 è sul test server uscirà fra una settimana quindi dovrebbe andare live mercoledì venerdì sc viaggio e meraviglia e forse anche l'evento quindi fatemi sapere se siete d'accordo con quelli che se vi piacciono gli argomenti che vi ho proposto e fatemi sapere anche altri argomenti io vi ringrazio sono se vicino e ci vediamo più tardi per il video e stasera in live